Luca, come vuoi? Oh, e allora si preparano Gennaro e Chiara che intervengono l'ing della principessa azienda da Delegge d'Azienda per il nuovo volet! Eroi di Iuret Scelto dalla spada che esorcizza il male hai la tua prova nel tuo coraggio e grande abilità nel combattimento io ti bendico nel nome della Dea Chiglia prego affinché la Dea possa incontrare nuova forza in te e nella spada che esorcizza il male Zelda, Chiglia mia ora che indica il mio titolo il possessore della spada suprema sarà a suo complico sorvegliante durante le due mansioni quotidiane in qualità di guardia personale guarda che non mi importa se è un ordine io non ho bisogno della posizione di nessuno intesi torna al castello e riferiscilo pure al mio padre smettila di sicuridli oggi vi ho detto una cosa terribile mi sono arrabbiata con lui per motivi futili ma domani voglio chiedervi scusa tuttavia ultimamente sono riuscita a parlare un pochino con Link e ho scoperto che è un gran golosore mi ho chiesto perché è sempre così silenzioso e mi ha risposto che gli aspettativi altrui mi causano imbarazzo ti sei arrivato tanto e ora sei una guardia reale e sei migliorato fino ad essere scelto dalla spada che esorciza il male di questo passo se la calamità di un dovesse fare di tutti avremo la forza per contattarla e lui si è risposto mi ha risposto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti